Si raccusa appizzicato un 22enne a speciale d'Ogan via Algeri, arrestato dai carabinieri. Alcuni condomini di via Algeri risultano essere aree calde, zone di frontiera per lo smercio di sostanze stupefacenti. Per tale motivo l'attenzione delle forze dell'ordine è sempre costante contro il fenomeno. Nella nottata appena trascorsa i carabinieri del nucleo operativo rademobile impegnati in un servizio di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio dei stupefacenti hanno tratto in arresto in fraganza di reato Gabriele Cacciatore, siracusano, 22enne, disoccupato e pregiudicato per spaccio dei stupefacenti. I carabinieri infatti lo hanno sorpreso mentre cedeva sostanze stupefacenti ad assuntori locali all'interno di un condominio di via Algeri. Dopo aver effettuato un accurato servizio di osservazione a distanza, i militari dell'arma sono intervenuti all'interno dello stabile dove avevano notato un fitto via vai di giovani e hanno sorpreso il cacciatore in possesso di 19 dosi di marijuana e 4 dosi di cocaina che lo stesso aveva occultato in una tasca del giubbotto. Arrestato e condotto presso il locale della caserma per le formalità del rito è stato successivamente sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa di rito direttissimo così come disposto dalla autorità giudiziaria di Siracusa. Grazie a tutti.